Rock'n'Roll, amici metallari! Questo video è dedicato a voi! Dette addio alle baggianate da Web 2.0! Eh, potete dircelo che stavi facendo un video? Serve una mano! Ciao, scossini! Baci, baci, baci! Starei facendo un video per metallari. Eh, interessante, ma forse un po' di nicchia. Non potremmo fare altro? E va bene. Challenge? Challenge! Jalapenos, amici del piccante! Avviso di non provarci a casa. Ma facciamo entrare il primo sfidante di questa challenge. Albain! Eh, una challenge sul piccante? Non è che lo rega molto? Ah, per questo scossa dice che vincere sarà una passeggiata. Ah, sì? Beh, vedremo. Ottimo. Vai a prendere un piatto, per favore? E la nostra seconda sfidante è... Scossa! Peperoncini? Non li mangio mai. Ah, per questo Albain dice che vincerà ad occhi chiusi. Ah, sì? Beh, vedremo. Chi ne mangerà di più in dieci secondi? Via al tempo! Oh! Mm! Oh! Oh! Heh, è! Aw! Oh! Waiting... Oh! Aw! Wo? Il mentre... Arrivo prima io Oddio Tutto bene, ragazzi? Non mi sento più le labbra Ho il naso Ho gli occhi Beh, il tempo è finito E a vincere oggi è... Scossa! Wow, sette peperoncini È un record? Sì, no Chi se ne frega? Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan? Serve latte Come dici? La... la... latte Ah, il latte aiuta, certo Ne ho lasciato un cartone Da qualche parte nel labirinto Dicevamo Se vi è piaciuto questo video Se vi è piaciuto questo video Siete un po' cattivi Per farvi perdonare Iscrivetevi al canale Ciao!